Draghi, in che cosa è diverso da quello di Conte? Beh, è molto più accentrato nella persona del Presidente del Consiglio. La cabina di regia che aveva pensato Conte era una cabina di regia con il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Economia e il Ministro dello Sviluppo Economico, assistiti da sei manager, uno per ciascuna delle macro aree del Recovery Plan e da circa 300 tecnici. Adesso, visto che dall'ultima bozza è di nuovo sparita l'assunzione dei tecnici, la rimetteranno in qualche altro provvedimento? Perché i tecnici sono quelli che materialmente seguono ciascuno un progetto pronti a riferire ogni qualvolta la cabina di regia che c'è in Commissione Europea chiede a che punto è quel lavoro, a che punto è la spesa, a che punto è la gara d'appalto, a che punto è la realizzazione dell'opera in cantiere. Quindi è una cosa che fece molto ridere e molto scandalo quando la inventò Conte, ma in realtà è a pagina 33 delle linee guida europee, ogni paese la fa come vuole, era assolutamente doveroso farla ed è assolutamente doveroso che lo faccia Draghi. Semmai fa ridere il fatto che quando lo decise Conte venne paragonata addirittura alla struttura dei quadrumviri di Mussolini dalla grande stampa e fu la ragione per cui il Recovery Plan venne tenuto sequestrato dall'innominabile per un mese e mezzo fino alla crisi di governo. Si parlò di vullus autoritario. Innominabile è sempre Renzi, lo ricordo perché non tutti magari lo sanno, che tu lo chiami l'innominabile. No, ma adesso non lo nomina più nessuno, quindi è diventato innominabile anche, diciamo, per un anime riconoscimento. Fatta la missione compiuta è scomparso. All'epoca tutti dicevano che aveva ragione, che era uno scandalo il controllo sugli appalti. I poteri sostitutivi erano un vullus democratico, una violazione della democrazia, un calpestare i ministeri e il Parlamento. Adesso che si fanno le stesse identiche cose, perché non si può fare altrimenti che così, pagina 33, linee guida dell'Unione Europea, tutti dicono che è giusto fare così. L'avessero detto prima, probabilmente ci saremmo risparmiati due mesi di perdita di tempo, una crisi di governo e tante sciocchezze, come quelle che abbiamo sentito dire, dagli stessi che oggi bellamente tacciono. Allora... Anzi, applaudono. De Angelis... felice... Grazie.